A distanza di anni finalmente è arrivato l'ok definitivo al prolungamento nel terramano del tratto di Pedemontana di altri 5 chilometri da Floriano di Campli fino alla Var Vibrata per la precisione fino alla statale 259 nel territorio di Santomero. Il progetto di fattibilità tecnico economico rafforzato il cui appalto integrato è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale prevede un investimento complessivo pari a 55 milioni e 725 mila euro con importo per i lavori e servizi a base d'appalto per oltre 44 milioni. Ma innanzitutto il 2022 si chiude con una bella notizia per il territorio della provincia di Terramo e per tutta la regione Abruzzo. È stato pubblicato il bando per l'aggiudicazione della progettazione e quindi poi successivamente dei lavori per quanto riguarda il parziale completamento della Pedemontana Marca Abruzzo, cioè la strada che da Terramo passando per la Palli Vibrata con Lega Conascoli. L'intervento che consta di 55 milioni di lavori, quindi poi oltre ai lavori anche IVA e le spese accessorie, consentirà di dare un primo completamente a questa strada. Il lotto 1, tratto compreso dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la statale 259, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di strada che va a contribuire al completamento della cosiddetta dorsale Marca Abruzzo Molise. Più precisamente l'intervento rappresenta la prosecuzione del tracciato della dorsale nel tratto al nord della provincia di Terramo, già in parte realizzato per lotti funzionali della stessa provincia. È attualmente aperto al traffico e che ad oggi assume la denominazione di SP3. Era una notizia attesa da anni, un intervento atteso da anni, in quanto la Pedemontana è rimasta bloccata a metà e non ha avuto ancora l'effetto che doveva avere sull'economia del territorio. Quindi in questo modo si rompe l'isolamento della Val Vibato e della Terra Madascoli per fare in modo che ci siano più opportunità per le aziende, per i cittadini e una migliore qualità della vita.